salve amici fratelli della congrega cinti in raccoglimento come ve la passate ieri sera vidi per la prima volta in vita mia devo ancora finire di vederlo batman v superman una delle più grosse stronzate della storia non soltanto del cinema bensì dell'umanità io sono superman io sono batman e sono anche joker non lo sapevate informatevi sì oggi che bella cosa le giornate sole l'aria serena dopo la tempesta si tempestati da divieti in posizioni chissà forse dal 4 maggio potremo uscire tutti più liberamente sarà permessa la libera circolazione potremo spostarci liberi in provincia o in regione e con questa mia faccia un po da coglione un po da sapientone un po da piaccione voglio per voi recitare mio pazzo mio pezzo tanto passano le macchine seguitemi oddio sempre difficoltoso tra l'altro dovrei tirare su questa tapparella e tirare su forse qualche veneziana perché le veneziane sono sono affogate nell'abisso delle loro tristezze delle loro malinconie dovete accalorarvi dovete riemergere ok tutti 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 il covid 19 non ci abbatté non ci abbattute tutto 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 che ti è qua il grande cinema continuerà e viva di erishman joker batman superman gli audiolibri esoterici e eroici erotici e anche miguel bosè già cantè l'altro giorno presto uscirà il mio audiolibro mi ha inserito intanto qui su youtube potete potrete poteste ascoltarlo e trascorse un'altra settimana amici e fratelli della congrega qui sarò un come fabrizio de andrè a che buono caffè pur in calcio sanno fa la ricetta di cicini all'ombra dell'ultimo sole s'era assopito un pescatore e aveva un solco lungo il viso come una specie di sorriso fabrizio de andrè maestro della polemica satirica compositore di canzoni tristemente arrabbiate scagliate sfacciatamente in viso ai perbenisti ipocriti sfacciatamente si si sbattuti in faccia dinanzi di rimpetto cos'è dire contro gli ignoranti abbiamo vissuto in questi giorni nella sepoltura vivente dei nostri polmoni soffocati nella sfittica dittatura sanitaria e forse anche molto fascista conversando con un mio amico su facebook che scrive come me su da roma view cinema concordami e lui che dietro il covid 19 vi siano quasi o vi siano state vi siano quasi esclusivamente ragioni politiche e forse ebbe ragione il premio nobel montagné luque montagné il quale sostiene che il coronavirus fu elaborato in laboratori e fu sperimentato sui pipistrelli forse anche su batman chissà ed è per questo che ben affleck adesso uscirà con un nuovo film potete vedere i primi dieci minuti online ingrassò si 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 ammalò ingrassò ben affleck ben affleck ma l'esperimento fuggì pericolosamente di mano i potenti tacquero in merito alla letalità del virus oppure lo usarono come deterrente per frenare le donne che così non useranno più il detergente no per frenare un'espansione delle libertà più democratiche per rallentare la globalizzazione oramai implacabile che ci vorrebbe arno schwarzenegg del film l'implacabile sì sì lui spacca tutto per chiuderci si ribella si ribella al sistema per chiuderci nel silenzio per reprimerci nella paura più oscurantista potremmo dire anche oscurantistica chissà esaltando un orrendo ritorno alla normalità no alla normalità no chissà se si avverrà alla barbarie quasi nazista da bruciati vivi in maniera apocalittica aspettiamo ancora il nostro presidente del consiglio conte che si esprimerà in maniera conte forse principesca regale o apodittica sì 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 ne sapremo di più per l'appunto nei prossimi giorni nei prossimi anni quando con tutta probabilità se la situazione costernante attualmente vigente che ci recluse in casa come morti viventi e si dovesse essere sanata molti film sull'argomento verranno realizzati contagion 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 di steven sotterberg o fu profetico fu lungimirante come si suol dire oppure la città verrà distrutta all'alba di george romero lo fu di più allora le ronde le rondini volano in cielo una bella giornata le passerine le passerine aspettano di incontrarsi con gli uccelli ecco le ronde di le ronde di carabinieri si aggirarono perfino lungo i viali alberati terrorizzando affinché intimoriti da decreti in posizioni debilitanti limitanti la fluida circolazione vitale dunque anche emozionale i cuori delle persone si rannicchiassero nella solitudine più schiacciante piazza pulita anche in tutte le piazze desertificate bonificate dagli spacciatori che questi spacciatori questi pusher che a tarda notte vendettero bene la loro merce come si vuol dire contrabbandando sono dei banditi un po di dignità e adesso invece siamo stati banditi dalla vita insomma la vita cosiddetta normale ecco ci stiamo asfissiando strozzati strozzati ci sono gli strozzini sì 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 perché poi stanno subentrando problemi economici contrabbandando un po di dignità per arrivare a fine mese con meno acqua alla gola e qualche strozza preti nelle mutande sì che sono buoni gli strozza preti le parti di faenza li fanno in una maniera sì 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 ora ripulite però furono le avete visto il cortile tutto purcile le aiuole no le aule anche da ogni manifestazione il comizio pubblico salvini prese su parola incitando la folla come Arthur Fleck joker joker come disse io chi è questo già lo scrissi anni fa ancora prima che uscisse il film di tot phillips il folle incita la folla Arthur fleck joker regalando populismo e qualunquismo a iosa sì andasse dalla sua compagna e le regalasse delle rosse 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 folli folli abbastanza folli abbastanza folli qual è il femminile di 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 folle sempre folle no no quelle folla folletti ha falotico abbastanza folli i folli incitarono le folli e anche la folla non so allora vese ancora più pazze poiché non poterono recarsi in viaggio alla volta di follie d'amore anche con gli amanti loro che non poterono rifornirsi alla stazione di pompe col diesel forse michel rodriguez è uno dei primi fast and furious li sai quante pompe ha vin diesel che quello ha i muscoli tutti bombati eh quello spinge il distributore automatico delle sigarette dista più di 200 metri da casa tua e quello dei profilattici invece ecco allora che l'appuntato dell'arma usò la fiamma tricolore del suo maschione con la moglie incendiata di passione incazzata con la lupara zitta e muta fu lei serva serva del suo marito padrone dopo una giornata in cui essendo con sé uscita per comprare dal droghiere un po di zucchero o forse per andare a fare colazione e sì perché con suo marito non ebbe diciamo piacere e non scatenò in lui alcuna ieculazione fu dell'amico geloso il marito e sì parecchio multata con una contravenzione segnalitica nella sua zona erogena più sacra del marito cano i cani e gli uccelli nel frattempo la vita mia andò avanti andava anche indietro e fra stati contemplativi fra stati che decisero diciamo all'unanimità così di dire di suffragio universale di incatenarci mi pare giusta comunque questa decisione affinché il morbo non virale ma non tanto vitale si diffondesse ecco e fra stati contemplativi governativi film rivisti in maniera rimase allibito di fronte a questo mappa ad libitum 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 una libitum un amore forse riscoccato in maniera inaspettata scatenandomi emozioni inaudite sì chi mi disse che io non so amare sì sì merita che io gli punti la lupa no il dito e torniamo al carabiniere fra moglie e marito non mettere no bisogna mettere il dito ecco un'altra stagione ci aspetterà amici e nemici anche nemici eh sì e tra l'altro in questo periodo hanno proibito anche le trasfusioni sanguigne diciamo eh sì sì e alcune persone si stanno arrabbiando stanno diventando sanguinarie e mangiano soltanto sanguinacce c'è 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 i sogni non finiranno in me che non si dica allora non diverremo psicotici qui assomiglia un po' eh un po' al look c'è come l'ex Luthor di Jesse Eisenberg però tutti si stanno dando diciamo adesso anche quelli che disprezzarono in passato ecco diciamo le comunicazioni telematiche virtuali stanno dando al social network e stanno guardando molti film di David Fincher su Netflix no è come me non saremo solo belli imbusti come il Batman di Ben Affleck diverremo forse più magri di Robert Pattinson del Batman di Matt Reeves o forse muscolosi come Vin Diesel o Steve Reeves lui che fu Ercole maciste maciste adesso maciste non può stare in Anglia nella valle dei farmacisti perché lo chiuso no le farmacie sono aperte però sì 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 le palestre no però non diverremo non diverremo dei manichini come Eric Cavill Cavill e tutti questi cavilli tutti questi cavilli si può uscire però non si può andare si può entrare non si può penetrare si può ecco ma continueremo a sognare un bagno caldo con Amy Adams che donna questa rossa Lois Lane Lois Lane questa che cos'è una maglia di lena che tiene anche coloro che embero una vita da famiglia Adams e qui mi sono perso un'altra volta nella brughiera essendo io un lupo un lupus in fabula un lupo forse nella fragola si si le frago sono buone le fragole soprattutto in questo periodo mangiatele inghiottitele e succhiatele ha il genius pop quest'uomo niente affatto psicotico come Jesse Eisenberg semplicemente falottico che contro ogni psicopatico come Batman è uno psicopatico quello soffre di due tre personalità si 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 fra l'altro comunque il Batman lì ha sempre avuto un grande culo perché ad esempio Michael Keaton nel Batman di Tim Burton nel nel primo Batman con Kim Basinger nel secondo con Michelle Pfeiffer nel terzo terzo no Ben Affleck non tanto di questo film però con Jennifer Lopez lì appunto sai sei che culo è anche assicurato quel culo quindi il fanò delle varietà fratelli cinti raccoglimento usciamo usciamo qui sul bucone sul terrazzo cari cari pazzi si adesso misli che su volazione razzi o razzismo ci sono ancora persone razziste dell'umana vita normalmente concepita in questo periodo fu fatta razzia guarda che fisico fra poco tornerò ancora più in splendida forma e riuscirò come riuscì a 13 anni a fare una spaccata la scena di Jean Claude Van Damme questo è Bruce Lee Brandly il corpo lì 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 è un corpo sono molto Jack Nicholson Joker o Arthur Fleck anche in Felix chissà sono sostanzialmente un araba finice Non sono sempre felice, a volte anche io dei momenti di forte malinconia Di tristezza, tristezia, patria La vita qualche volta è un'agonia Ma vai oggi di euforia E forse anche un po' di forfora E qui fuori noi cantiamo E forse un giorno in un imperiale foro E noi ancora gladiatori Battaglieremo, combatteremo, lotteremo No! Il coronavirus sarà sconfitto Non è ancora momento Ma, ma, ma No, beh Adesso Io non sapevate che sono un robot Non è ancora giunto il momento No, no, no Mi sono ripreso No, no, hai problema Non è ancora giunto il momento del giorno del giudizio Io sono il capo della resistenza Non lo sapevate, sono John Connor Io potrei interpretare un nuovo Terminator Memore del grande Edward Farlong Del secondo capitolo firmato James Cameron Sono Edward Farlong Fu il corvo anche lui Cos'è il corvo 3, 4, chissà Lui si perse Io mi ripresi Voi vi riprenderete 1, 2, 3, 4, 5, 6 Il genius pop Comunque non guardate questo film No, guardatelo È veramente una grande puttanata questo film Batman, VV V, la V di? Di, vagine, di vulva Allora Versus Versus Superman Ma chi è Superman? Io sono Superman Questa è la mia teoria dei supereroi Sono un uomo, diciamo, supermistico Sono un uomo Che è indubbiamente un enorme Strafottente faccia da culo Stupefacente Il fano